Covid-19 per stare in tema, questa è la pulsazione base, quindi è suddivisa in tre. Abbiamo sei movimenti da tre più uno che chiaramente complessivamente fanno 19, quindi è un tempo composto. La prima parte lo facciamo solo ritmicamente, poi la seconda parte la faremo domani e la facciamo di improvvisazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.